E' stato inaugurato ufficialmente alla presenza delle istituzioni e dei cittadini il nuovo Ponte Leopoldo II, detto Ponte Manetti, dal nome dell'architetto che lo realizzò nel 1833 su volontà del Granduca di Toscana, Leopoldo II di Lorena. La regione ha partecipato alla realizzazione dell'opera a 60 metri di lunghezza con campata centrale di 24 metri e stralli metallici, con un contributo di 720.000 euro a fronte del 1.200.000 euro previsti dal cofinanziamento che ha coinvolto anche la provincia e il comune di Prato, oltre al comune di Poggio a Caiano. Un sogno che è nato all'inizio degli anni 2000 e che aveva l'obiettivo di restituire il disegno laurenziano alle città di Poggio, di Prato, ma a tutta la Toscana. Infatti il Ponte del Manetti nel 1833 fu costruito proprio per mettere insieme la Villa Medicea con il Parco del Bargo, con la fattoria e le cascine, in un disegno che già allora il Granduca di Toscana aveva intuito sarebbe stato un potenziale volano di sviluppo per tutta la piana. Il Ponte è uno dei primi ponti sospesi realizzati in Italia. Dalla sua distruzione nel 1944 non era più stato ricostruito. Con i lavori durati da maggio 2018 a luglio 2019 sono stati restaurati anche gli storici archi del 1833 ed è stato realizzato un tratto di pista ciclabile lungo un chilometro. Grazie a tutti.